Buonasera ragazzi, buonasera, buonasera e bentrovati qui su questi schermi ragazzi, su questi schermi Sempre Stranded Deep, continuiamo a sopravvivere Continuiamo a sopravvivere ragazzi Allora ragazzi, allora, allora, eccoci qua, eccoci qua Come state, come state? Avete mangiato? Avete mangiato? Cosa avete mangiato? Fatemi sapere, fatemi sapere cosa avete mangiato E non mi dite gabbiani Aprilcell, hi, ciao April, no, Aprilcell Aprilcell Vabbè, quello, pizza Ma scusa, ma non era ieri la pizza, era oggi la pizza Ah vero che ti sei allontanata e ti sei persa l'uccisione dello squalo Ti sei persa l'uccisione dello squalo, vero? Per la pizza Ma che brutta persona, ma che brutta persona Ma che brutta persona Che brutta persona Beviamo, beviamo, come se non ci fosse un dopo domani Mangiamo come se non ci fosse un dopo domani Appendiamo la carne come se non ci fosse un dopo domani Poi spero che tu abbia recuperato Almeno Ho mangiato lo squalo Pessimo Ricordati Cosa mi devo ricordare? La fra, cosa mi devo ricordare? Ho mangiato lo squalo Io Ma che hai mangiato lo squalo Cosa hai mangiato lo squalo Ma quando, ma dove, ma perché Solo io posso mangiare gli squali Ragazzi, ma sai che ho una Cioè, ho una mezza Malattia mentale Di andare sull'isola del serpente Come se non ci fosse un dopo domani Però, prima di andarci Ovviamente mi devo portare Da mangiare Beh, due cose mi bastano Queste me le devo portate a pezzo Mi le devo portate a qualche altra cosa Perché tanto questa l'abbiamo girata, ragazzi L'abbiamo assolutamente girata Salviamo, bande differente Poi ti spiego Che mi devi spiegare? No, ma sta facendo notte Cavolo, sta facendo notte Pensavo che fosse giorno Quindi dobbiamo dormire Sì, è una malattia mentale Antitoto Cosa antitoto? Perché sono avvolenato? Guarda, me lo dice anche Anche l'orologio Me lo dice che sono in salute Eccolo Tommy Eccolo, eccolo Tommy Cioè Ve lo tengo un po' in sovraimpressione Così Guardate bene Effetti di salute In salute In salute Cioè Cioè Non so se mi spiego Ma qui di cosa vogliamo parlare Ragazzi Ma di cosa vogliamo parlare Ma di cosa vogliamo parlare Scendiamo il fuoco Eccola qui Eccola qui Anche Tris Ti servirà per i serpenti Perché tu 1111 Già parti Col presupposto Che io Verrò morso Da serpente No Tris Ora ho iniziato Stavo solo insultando Chiuso Che si è persa Che prima si è persa L'uccisione dello squalo Perché voglio andare su quelli Tanto qua che dobbiamo fare O mi metto a fare la Vabbè Possiamo fare questa cosa Vero Vediamo un po' che mi serve Per allargarci un po' Per allargarci un po' Dai Allarghiamoci un po' Allarghiamoci un po' Allarghiamoci un po' Allarghiamoci un po' Vediamo Che mi serve Mi serve Sono piccino nelle corde Oh Ho due Io ne ho tre Di pneumatici Cavolo C'ho un pneumatico In più E invece I cosi Quanti ne servono I galleggianti Cinque galleggianti Cazzo Ne posso fare solo due Ne posso fare solo due Le corde però Una ce l'avevamo Vabbè Tagliamo sti alberi Che ce ne frega Ma che ce frega Ma che ce importa Tagliamo gli alberi Dai Ma che ce frega Ma che ce importa L'antitolo comunque Lo vorrei fare Però in realtà Non è che mi ispira molto Da Dov'è David? No cazzo, rosso non l'avevo visto Cioè ti vedo rosso Che com'è andata poi David? Com'è andata? Non è che mi piace Vivere molto Non ti piace vivere molto 1111 Non c'è da capo col veleno Ok Ok Se lo dici te Se lo dici te Se lo dici te Se lo dici te Allora, allora, allora Ragazzi siamo a due Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Dove stanno altri alberi? Dai Anzi no siamo a tre Me ne serve uno Dai alberello Dai alberello Dove sei alberello? Dov'hai la fra? Dov'hai? Buonasera da tutti Come odio? Se è più 70 ma come dicevo la sfiga non è normale Avrò trovato 15 tessere gialle E quindi? Ah, e hai fatto più Più 70 punti Giusto? Ho capito bene Siamo a quattro, vero? Sì Perfetto Le due corde ce le abbiamo Quindi Ma porto la zattera qui La porto trascinando Perché No, anzi Facciamo il coso Facciamo il coso Facciamo il coso Facciamo il coso Ah, più 70 Ah, ok, ok Perfetto No, cavolo Ho sbagliato ragazzi Mannaggia a me Scusatemi ragazzi Ma ho chiuso Ho chiuso il coso De Dei feed Aspettate un attimo Allora Eccoci qua Eccoci qua Io non le uso ancora le mono Vabbè ma tu Tris C'hai evidenti problemi C'hai evidenti problemi Uno tifi contro di me E già questo è un grosso problema Non usi le mono Non esagerare ora Tommy Non esagerare Sarebbe già Sarebbe già Finita male Ma perché non me le vede Ah, perché devo avere sempre Il cazzo di Come si chiama Martello in mano Dove cazzo stava il martello Ora Dove l'ho posato Anche perché se lo vedeva L'arcobaleno C'erano problemi Grossi problemi Sarebbero stati Grossi problemi Allora mettiamolo qua Come ho fatto Vediamo un po' Vediamo un po' Eccoli qua Quindi Eh no Perché non me le vede Ho sbagliato Verro Annaccia Mannaccia Mannaccia Vabbè Ho sbagliato Alla grande Proprio Come si fa A rompere Mo' sto coso Con l'accetta Presumo Non si possono rompere Più Ah no Ecco O non mi da Una ruota Tipo Lo sapevo Vabbè Vabbocolo Prima di entrare in enigma Staccato sempre di multicolor Beh bei tempi non credo che fossero dei bei tempi allora non chiuso il problema è che li devo attaccare vicino alla zattera ci ho pensato dopo a sto fatto quando le costruisco così li devo attaccare vicino alla zattera vedi che non me li attacca ora vedi bastardo ah però la posso allungare da questo lato no poi sarebbe troppo sgravo la devo mettere per forza in acqua ok sperando che non se la prenda la corrente anche se dubito anzi però dobbiamo fare una cosa aspettate giriamo 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 ecco andiamo più in qua così dovrebbe essere bloccato giusto no ok se si fermasse così sarebbe l'ideale e invece no continua ecco che serve l'ancora vedi però se la girassi così e la mettessi sulla spiaggia col culo tipo così dovrebbe funzionare mi trovo vi trovate o mi trovo solo io tipo così che mi dà se in acqua mi dà qua dai vediamo vediamo devo fare l'ancora comunque assolutamente l'ancora devo fare no ma ecco qua qua no qua si ok probabilmente la vedremo perché sapete che sbaglia belli di lato ma sta tipa dorme poco è normale che si stressa non ha affatto l'ancora ovvio che vado in un relitto che c'è che c'è c'è l'ancora ragazzi ma voi non vi fidate di me mannaccia a voi eh mannaccia a voi ancora non vi fidate di me io che devo fare che devo fare con voi come devo fare come devo fare eccole quanto ne abbiamo? ne abbiamo 8 o 10 possiamo fare altre 2 quindi questo me lo non me lo fa prendere allora che cosa posso oh la cazzo la carne lo estingui ok ma massicosi? vabbè tu stai qui non ti preoccupare che lì stai messo bene ok vediamo che possiamo buttare ne abbiamo 4 quindi 2 li possiamo fare possiamo buttare tutti questi cosi perché per il momento non ci servono perfetto il fuo il coso ci serve siamo a 4 quindi 5 e 6 giusti giusti ok questo pure lo prendiamo andiamo forza e coraggio ragazzi forza e coraggio in che senso non vi fidate? non vi fidate di me delle cose che faccio io non vi fidate state lì sempre diremo sbaglia sbagliato sta sbagliando quelle cose lì quelle cose lì ok ok ecco ecco uno fatto perfetto mi serve una corda no mi serve un'altra corda mannaccia mannaccia la corda mi serve non si poteva prendere deve costruirla si no vabbè poi la farò l'ancora per ora allarghiamoci un po' ragazzi allarghiamoci un po' dobbiamo dobbiamo essere potenti forti minacciosi quando ci vedono le altre zattere è uno è due è tre nonca uno no la corda non la ho ogni umano coltello in mano eccoci qua questa cosa sarà molto stabile certo sarà molto stabile domeneremo i mari domeneremo i mari domeneremo i mari non solo i mari domeneremo tutto eh la corda la devo buttare a terra ok riprendiamo la corda e facciamo questo no non me lo vede qua devo sempre andare a prendere di qua veicoli eccolo qua perfetto ora vediamo un po' come possiamo fare il pavimento eccolo qua uno no non è questo pare tanta roba basta zattera si concordo concordo ma che vi creiamo qua ho già saputo di prendere una brutta piega dove vai vieni qua stai qua buona tranquilla ok ragazzi ok abbiamo fatto il doppio coso perfetto ciao ciao mp ciao avevi fatto piastrelle vedi ti stai evolvendo si sono diventato raichu da pikachu mi sono trasformato a raichu cosa ti manca per l'ancora ancora ancora tanta roba sempre troppa roba sei pietre no non ne abbiamo ne abbiamo una due tre quattro cinque pietre ragazzo per una pietra però sono le corde quello che mi preoccupava a me dai il prossimo giro ragazzi rifacciamola ancora il martello me lo devo portare presso il letto me lo devo portare presso come stai a vita ma cioè non se ne può più di vita ha suonato prima l'orologio e ha detto guarda che hai bisogno di un altro quadratino perché non ne possiamo mettere più in reazione però quasi quasi me lo potevo riportare ma questi sono cotti si si sono cotti ma questi se li rimangono appesi secondo voi si perdono vero sono più facili che si perdono in tasca o qua sopra no quindi è meglio qua ok che in tasca ok tanto due mi bastano devo prendermi le lance che ho lanciato che ho lasciato poi le qua prendiamole tutte tutte ok il letto che ce lo portiamo la luce non la voglio perché tanto non mi serve poi mp mi dice ogni 5 secondi usa la luce usa la luce in tasca a tirare gli squali allora ragazzi secondo me dormo e poi ce ne andiamo puoi dormire solamente di notte e questa che cos'è questa non è notte cosa mettila sulla zattera fissa si vado da snake cosa posso mettere sulla zattera fissa il coso per cucinare cioè io posso mettere il fuoco sulla zattera cioè mi stai aprendo un mondo se posso mettere il fuoco qua sopra che io già mi volevo fare una una eh si ma la lanterna madonna questa lanterna basta questa lanterna io pensavo che mi avessi fatto smoltare il gioco basta voglio trovare un'altra perché questa la voglio lasciarci sa qua eccola qua c'è il suo piedistallo e sarebbe il suo piedistallo dove la metto lo devo costruire che poi tra l'altro è notte perché non mi fa dormire no perché sta calando la luna cioè è quasi giorno secondo lui ah lo devo costruire veicoli pavimento pavimento non ci sta qua non ci sta vediamo qua vera zattera motore zattera timone zattera tettoia zattera eh ma non mi fa dormire più ormai è giorno che devo usare un bastone e una corda eh no ma una corda non ce l'ho mi devi dire queste cose quando non c'è la corda allora questo qua e c'erano altre due qua no cazzo sbagliato era una sola vabbè c'era un'altra qua eccola qua craftiamoci la corda ok e devo prendere un bastone detto cavolo non c'è un bastone era l'albero buttato a terra sì vabbè ora lo faccio l'unica pecca è l'acqua fiocina che cazzo è la fiocina ragazzi io non lo so allora il menu creazioni eh romantale canna da pesca zappa arco freccia cuoio piccone lancia qua andiamo avanti fuoco 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 scudafuoco fornello improvvisato lo vedo positivo il barile ce l'ho di là fornace ci vuole l'argilla distillato di carburanti io questo devo fare quindi legno gancio la fiocina per la pesca vedi io non ne capisco assolutamente niente di pesca ragazzi né di barche né di quant'altro ok faccio questo quindi quindi saranno due bastoni eh non va bene mp che mi trae in inganno col tuo bastone poi in realtà sono due ecco quindi questo lo posso mettere sulla zatter abbiamo detto solo qua la posso mettere ok tieni il primo mutuoio per attacco ok e quindi ma come si mantiene questa cosa ma cose strane cose strane succedono allora ho paura dell'acqua quindi ora mi vado un attimo a buttare giù una pianta di palme scusatemi un secondo fiocina si dice nooo 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 è successo una cosa irreparabile ragazzi ragazzi una cosa due cose irreparabili sono successe era durato pure troppo questo è segno che non ci vuole fare andare via da quest'isola ragazzi non ci vuole fare andare via da quest'isola è un segno manca un tavolo e quattro sedie l'ho letto è un segno ragazzi è un segno è un segno allora col coltello questo posso tagliare sicuramente le le cose stiamo qua è uno due no ma non ci sono ma sono serio oh però c'è sta cosa guarda devo tagliare tre manca uno dai non farmi rompere eccolo qua grandissimo e quattro quindi facciamoci una corda mettiamo la terra perfetto prendiamo in R e facciamoci lascia prendiamoci lascia ecco qua no no se c'è assieme di irreparabile non c'è mai niente di irreparabile ragazzi mai niente di irreparabile una cosa però il coltello pure secondo me è meglio che mi faccia giusto un'altra corda vabbè vado sulla prossima isola con l'ascia solo farina salviamo prendiamoci il letto spostiamo stiamo salzattera in un posto postoso vai salta via ooooh cavolo 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 ce la facciamo niente si gira non fa un 360 gradi ragazzi fa un 360 gradi devo per forza abbassare la vela sembrava Sebastian Vettel ecco qua dove vai vieni qua niente ecco si perse la zattera perché si mi sa fare cose strambe ok ok quella è la nostra isola giusto quindi andiamo con l'altra dall'altro lato ooooh l'amico Frizzi questo mi cerca ancora ma che è successo ma che è successo non ho capito ah c'era il coso a terra ah da questo altro lato da questo altro lato gira gira ok si ragazzi vorrei andare dalla serpente però non so qual è l'isola perché quella è la nostra col col container su vicino eeeh quindi dritto a quell'isola ci sarà la nostra prima isola e a fianco dovrebbe essere questo c'è una roccia e al centro comunque quell'isola dove c'era il e quando a girare faccio fatica c'è il senso che io mi ho girato già 10 minuti fa a destra ma mi ho girato dopo un bel po' giustamente non è che c'è l'altro non mi fa vedere nemmeno se è quella eh si ma dopo l'allarghiamo qua deve questa deve diventare una 4x4 in tutti i sensi quella sarà la nostra isola iniziale o no si quella sarà l'isola iniziale e questa era l'isola dove c'era il serpente girare la ruota che vuol dire girare la ruota dai che è figata pure la lanterna qua che sta appesa nel nulla mi servono due vele forse diventa più pesante forse diventate più pesante ah ok perché dite che va piano oh ma questo mi sta ancora seguendo ah no questo è il pesce spada questo è un pesce spada si ma avrei faccio il motore ah la vele la posso girare ahhh e così vado ancora più veloce ahhh hai capito cazzo no ma secondo me era la stessa velocità ha fumicato tanta roba sapete mi sta venendo il dubbio che forse non è questo ma questo mi sta ancora seguendo ma sono serio ma questo è qualche terra vera no mi sono incagliato ok ok due erano ma già mi aspetta il granchio la già mi aspetta il granchio mi ha detto qua mi ha detto qua faccio G e salviamo non è questa io mi ricordavo con l'isola vicino mi ha colpito amico frizzi ora che non sto morendo amico mi uccido così facilmente cioè il coltello ma non ce l'ho per scuoltarlo a questo mi ha tolto praticamente nulla come l'ho uccido come l'ho uccido no corri ma c'è serpente e mi uccide oh ma questo sbanda ma che cazzo eh l'ho uccide grandissimo l'ho ucciso però non lo posso squartare grande mi piace esso isolo con i cinghiali ok ok ma poi sono piante diverse queste allora ragazzi mi devo fare il coltello perché se no non posso fare niente vediamo quindi mi serve una pietra e le corde ok le solite cose ma secondo me esce ma mo sicuro ma sicuro mi esce il serpente e mi uccide però prima di fare qualunque cosa io salvo perché ho ucciso il maiale il cinghiale tanta roba il cinghiale secondo me salviamo subito che arriva la mamma speriamo che arriva la mamma come mi devo fare un'arma più potente qual è l'arma più potente del gioco un'arma di fine livello qual è eh ma pioveva pure Tommy eh c'è da dire certo che il grande sembra il più grande del cinghiale sì no è più grande non è che sembra eh ho visto cosa che si muoveva no no ok mi serve una pietra io sempre con queste pietre c'ho sempre il problema delle pietre ma com'è possibile secondo me è passato qualcuno prima di messi subare le pietre e poi scappa non è non è possibile non ci sia una pietra ma ecco allora devo fare questo e buttalo a terra poi faccio R coltellore finito ok ma io questo come li faccio a mettere se faccio uno no no dove l'ha messo come faccio a metterli sotto nei numeri passo io e te le via eccolo lo sapevo cari tu allora come faccio a selezionarli a mettere nei numeri le cose ecco sto morendo di caldo lo sapevo io no la l'ho non ce l'ho qua potrei trovarla però oh eccolo lì oh cazzo oh cazzo come l'ho uccido sto cosa ecco vieni qua ma ma ursa vieni cazzo cazzo stavo scherzando stavo scherzando vai che si bugga qua dentro vieni qua che ti bughi dai cinghiale vieni qua ma perché scappate tutti perché perché scappate tutti vieni qua vieni qua cazzo cazzo scappo marca puttana quando è duro questo però è l'ho ucciso ma ma ursa ma scusa è è è morta fammi vedere come sto ok ma ma si muove no è morta ok cosa devo prendere in mano sì ma detta così prendilo in mano cioè ma quanta roba mi sta dando ah non c'ho spazio eccolo li devo bere manciamo questa l'attrezzo qual è l'attrezzo scusami ah ok devo prendere ah per metterlo da sotto ok non capivo pensavo che stessi parlando per uccidere meglio il cinghiale e cavolo mi ha dato un bel po' cavolo sono già strapieno intanto questa è la carne del cinghiale del cinghiale che sembra carne di pesce spada ma quello cotto no questo grudo vaffanculo se si perde tanto non posso farci niente ragazzi devo salvare prima cosa salva devi trovare una cassa se vediamo qua dentro se ci sta la cassa sotto sotto non c'è niente andiamo sopra eh non si arrampica no no ma che cazzo boh non ho capito ah ok bombola bombola d'aria altre cose eh altri galleggianti qui ragazzi oh il pesce spada il pesce martello che roba è c'è ma bà non mi serve nemmeno ucciderlo c'ho talmente tanta roba ma sono quattro le volte portano no cinque perché c'è il coltello nel mano con Q ed E con Q ed E 1111 poi ti fai il portacassa per zattera ah eccolo lì questo mi interessa il portacassa per zattera è interessante io prima mi devo prima fare G 1,2,4,5 no dove andate no no il serpente questo è il serpente giusto come lo uccide il serpente come lo uccide il serpente ah non si sente il serpente io ho sentito tipo sonagli lo sono sognato vai snake 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 momento buono ehm si dice no l'ho sentito anch'io si l'ho sentito a me non va la devi mirare forse 1111 se la miri si gira ecco no no ho sbagliato ho preso un punto allora allora e me più voglio capire come posso uccidere il serpente più di ogni altra cosa voglio uccidere questo serpente perché deve morire non credo con questo ah ok 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 se ce l'ho più lontano ti vedo a distanza e lo lanci prendendo la mira ok lo devo lanciare così ok allora ragazzi salviamo non mi ricordo se l'ho salvato e andiamo a morire però mangio ecco mannaccia a me mannaccia mannaccia fanculo non c'ho manco ma com'è che è andato già male ecco voi non l'avete sentito ma non lo vedo ragazzi vabbè ragazzi devo morire ho capito dai non fa niente ma dove cazzo sta eccolo là ehi lo devo virare però ma che è si è incazzato mamma mia che mira di merda cioè devo mirare 8 km più alto mo lo vedo perché si muoge il bastone ma no ma sempre più alto devo mirare ma come cazzo devo mirarlo cioè devo mirare così tipo vedete è morto però io per sicurezza no ho finito morto è morto è morto è morto ragazzi è morto farlo rotolare è più facile no io non uso quelle cose facili è morto ero bastardo sei morto pure tu ma il coltello ah l'ho lasciato da terra dove cazzo lo lascio ecco non fa niente che muoio di sete ora ma non importa ah ti squarto anche a te serpente di merda piccolo serpente carne cazzo però è complicato uccidere il serpente cioè è più facile uccidere lo squalo che il serpente ma le cose non ci stanno mannaccia ecco oh premi spazio dai dove sta perché non si gira che balla c c oh fermati ci sarà ancora uno di serpente vanno in coppia cavolo sto morendo proprio di sete ma non ci sta tipo qualcosa di bottiglia una cosa del genere che mi posso portare presso l'acqua 26 che cosa 26 ah 26 giorni si qua fa tutto il giro ok quella temperatura se è qualcosa vabbè lo prendiamo perché ora fare fare di nuovo il costo dell'acqua è un bel po' mi sa allora vediamo un po' come si faceva dove sta dove sta eccolo qua ok una stoffa ho bisogno di una di una stoffa che ovviamente l'unica cosa non ho trovato è la stoffa aspettate ragazzi aspettate ah si può fare la borraccia si fa di terracotta in pelle ok ok una stoffa ragazzi se vedete una stoffa ah ma pure questo fa lo stesso rumore del serpente eccola ah due addirittura non è andato però qui sta ancora seguendo no vediamo che c'è qua dentro ho messo la vela dentro la dettoia ah 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 va bene si poi la faccio la dettoia ora devo un attimo sopravvivere allora quante pietre mi servivano tre che non posso portare vabbè stanno qua tre pietre avevi poi fatto il telaio no non l'ho fatto il telaio poi lo volevo fare si è una cosa che volevo fare ma non l'ho fatto più possiamo il bastone possiamo la carne possiamo la carne la carne non mi interessa ok andiamoci a prendere le tre pietre e i cosi ranchio vai io non do fastidio a voi non voglio andare fastidio a me ok uno la patata me lo da un po' d'acqua un cazzo mi ha dato alberello di pino ci siamo si facciamo la corda ok devo comunque prendere una palma meglio buttarla giù puoi trasportare si infatti in mano però tanto sta vicino alla zattera non so se hai visto poi non c'è niente di utilissimo proprio perfetto il tasto destro del mouse mi mette la cosa in mano ah no vabbè questo qua lo so tipo così ah posso trascinarlo anche se sono pieno ok capito ah la noce di cocco non ho preso madonna eccolo lì che muore di seta non c'è di cocco non ho preso ok facciamo un attimo questa cosa ah e mo devo fare un'altra corda sembra quel problema lì mi dimentico sempre di quel fatto lì devo fare comunque due corde per fare sta cosa eccolo qua cazzo cazzo ma sbanda però sto cosa è quello che non mi dà fastidi oh quello è il mio legno dove vai ma che cazzo sto facendo vabbè ma perché fa dei movimenti strani no no ma dove non l'ho preso cioè questo per me l'avevo preso per me vabbè sempre più alto devo mirare eccolo adesso ho due è grandissimo è morto è morto vero si ok stronzo ti squarto pure a te vaffanculo non ci dovrebbe essere più giusto quando ho capito non so tranquillo ok sono sono l'assassino di serpenti devono morire tutti i serpenti di merda ok R R ok perfetto devo farmi un fuoco i legni ce l'avevo però o no c'era uno solo che ce ne siano anche tre ma non mi puoi dire queste cose però non mi puoi proprio dire queste cose devo andare a cercare pure quest'altro ecco ma vaffanculo da dove cazzo sei uscito tu stronzo fanculo non sto tagliando la legna per fatti suoi senza nessun ti voglio fare niente arriva questo e ti vuole uccidere beh non lo so non lo so non lo so proprio non c'è manco spazio ormai è una mia fissa cosa non lo so bisogna stare allerta eh sì ho capito ma fai un rumore fai qualcosa che vuol dire questo è andato a male già cioè io mo l'ho presca io mo l'ho preso cioè porca puttana tutta la carne è buttata mangiate pesce mangiate pesce ma secondo me se me lo tengo addosso sta carne dura di più vero? allora ho immaginato si stronzi mi fanno finire la carne subito allora ragazzi qua che cavolo dobbiamo fare a parte uccidere i serpenti eh aumenta se me lo mangio pure sto salpendo di merda l'acqua copri l'acqua ok ce la siamo vista brutta ragazzi ce la siamo vista brutta ce la siamo vista brutta ma è il pino che mi dà? hai il sacco a pelo per quello cioè che posso fare col sacco a pelo non ho capito come non ho capito come bene gu che che ah ok ok no vediamo un po facciamoci l'affumigatore mi serve una corda fammela mettere in evidenza così almeno lo vedo vediamo vediamo ragazzi vediamo vediamo abbiamo tre pietre ho un sacco ho un granchio questa è una pietra questa ne è un altro lo devo fare la corda se no vedrò un cazzo adesso ce la vendiamo adesso ce la vendiamo adesso ce la vendiamo tre me ne serve una oh un meiale c'è un cinghiale vabbè dopo ti uccido ora sono impegnato ah questo è cotto niente si sono comunque fatti lo scopo del gioco è ristabilirsi a cercare un modo di andarsene a casa infatti ora secondo me devo farmi qualcosa con con la benzina secondo me allora facciamoci la cosa la corda ora mi faccio questo ok ora devo fare il coso intorno al fuoco no che mi manca ah i bastoni ok 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 allora dormiamo e domani sarà un altro giorno domani sarà un altro giorno ragazzi domani sarà un altro giorno ho perso l'obiettivo non ho perso l'obiettivo ragazzi è che ho girato queste isole cioè che faccio non le giro ok poi c'è il sorprendente qua cioè hai visto la cartina ma l'ho vista appena prima di entrare ma non ho capito sulla cartina che mi dice mi dice dove devo andare allora salva non ci vuole niente ragazzi esci si non è che ci voglia molto cartografo quindi che dovrei vedere qua ah ok devo trovare la porta aereo bene e che è sta zona a mysterious a mysterious location altra ah ma qua posso modificarle però mi dice delete infinito senza fondo ah eccola qua la porta aerea perfetto e il problema è che sapere noi dove siamo noi siamo qua sì sì già l'ho fatta più piccola ma mi vedi tu un attimo in ritardo così dicono rosso in che senso rosso questo sono io isola rossa dove sono dove sono ok sono qua ora quindi io eh ma io allora sono nato qui perché mi sa che questo è stato il tragitto che abbiamo fatto quindi il nord è a destra quindi noi dobbiamo andare a ovest e farci tutta questa scalata per arrivare qua e queste isole misteriose che sono alla fine sono zona interessante ok play continuo grazie a tutti Non si scopre cosa devi fare Sì vabbè ma sicuramente allora io ho bisogno sicuramente di farmi principalmente la zattra a motore Questo è poco ma sicuro Però giustamente per farla partire io ho bisogno del carburante Per fare il carburante ho bisogno di costruirmi il coso per fare i carburanti Quindi di conseguenza Dove sta? Che l'ho visto prima Distillatore, eccolo qua Ho bisogno dell'argilla L'argilla dove cavolo la trovo? Nella fornace? No, la fornace prima mi serve l'argilla per farla Come la faccio l'argilla? Devo trovare dei mattoni Eh scusa ma me ne vado con sta zattera di cacca appresso E ogni volta che vado su un'isola mi devo comunque costruire cibo, acqua, cacciare e quant'altro Ho capito bene Ah questo è ancora il coso che ho ucciso lì Ah che mi serve l'altro Ooooooooh Grandissimo, la pipì trovata Sarà un tipo particolare di sabbia o di sassi Ok E voglio capire un fatto però Ah mi dà un tronco Oh mamma, pensavo che adesso ho qualcosa di particolare Ok Dove scappi amico frizzi? Sì Da qua non lo prendo Ma perché sbanda? L'ho preso Cioè più lontano sta, meglio lo prendo Vabbè Cioè allucinante Eh ventisettesimo giorno ragazzi Ormai siamo i padroni incontrastati di tutte le isole in cui siamo stati Ok Ok cuciniamoci un po' sta carne Ehm dove sta qua? Cattiamo, 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 cattiamo Perfetto Perfetto Ok ottimo Quindi beviamoci su Ok Ok Allora ragazzi Allora Allora Vedrei di girarmi velocemente l'isola Sì Avevo immaginato Avevo immaginato Andare Dritto per dritto lì E il problema mio principale È che Io Niente Io niente Ho bisogno di acqua Quindi mi devo fare la borraccia Perché altrimenti Io ogni volta Come cazzo faccio Ma la borraccia quanta acqua contiene È il fatto delle cose Sulla zattera Per metterci la roba sulla zattera Allora Vediamo un po' Veicoli Pavimento della zattera Ancora della zattera Di modo della zattera Non mi serve niente Devo fare l'ancora E la tettoia Al massimo No È la cosa per metterci le casse Perché aveva detto A me che io posso mettere le casse Sulla Sulla zattera Eri lì Però lì dove? Allora Mi devo fare comunque l'antidota E portarmela presso Creazione No Iniziamo a pensare una cosa per volta Dai Scaffale contenitore Effettivamente si potrebbero fare Anche gli scaffali Non c'è niente Cintura per gli attrezzi Ah con la cintura posso farmi più Spazio per metterci gli oggetti Costruzione Costruzione Eh non posso fare niente In costruzione Mi sono perso io qualcosa Non posso fare niente La cintura serve solo per sbloccare i livelli Ok Quindi non mi serve farla Perché quando ho capito Se sblocchi Metto una Quindi non è una tasca in più Non sono oggetti in più che posso portare Ho capito bene Ah ho capito In consumabili sai cosa Ok Eccola qua Ah posso fare anche la bottiglia d'acqua Ah però mi serve l'argile Rebellente per gli squali Ci sta Allora Facciamoci quindi la rastelliera Dobbiamo farci Allora Dove sta creazione A rastelliera Dove si fa Non è qua Quattro corde Mamma mia Sono un idiota Perché questo Lo devo tenere qua Sono proprio idiota Allora una cosa per volta Dai ragazzi Dobbiamo fare le corde Dobbiamo fare le corde Quindi Uno Ma devi farli lo stesso Le varie cinture Vabbè Facciamo una cosa per volta Dai Così vediamo tutto 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 quello che c'è da vedere Vediamo Anzi Vi vedo proprio assenti Do state Che è stasera Sta musceria 1111 Starà chissà dove In quale mare Chiuso Vabbè Chiuso Trissi non la sento più Ma c'è No Non c'è Tommy Vabbè C'è No Non ci sta Né Triss Né Né Vecchiarella Vecchiarella ha detto Che non gli funzionava La connessione Quindi Ok Ci sta Ok Allora Vediamo ragazzi Vediamo Dobbiamo fare Le corde Io però qua Non vedo Piante di Non vedo Piante di Di Iocca Vuoi l'impressione Mio Eccolo Senti Sì sì Infatti Sono proprio Delle brutte persone Poi mi sentiranno Poi mi sentiranno La pianta Sì Dopo che l'ho vista C'è Purtroppo Niente Andate a ricaricare Perché si pianta Si pianta Cosa La pianta di Iocca O la pianta di Luca Come era diventata All'improvviso Lavoro un'altra Vediamo Quante ne ho 17 Ecco a dire Questo bastardo Di un Di un coso 3 ce ne sono 3 Ma su serio Non ne ho visto Manco uno Che a me succede Eh ragazzi Io Considerate che io La Il bitrate Dello streaming Ce l'ho basso Ce l'ho 2500 Quindi con una 2 mega Per regola Doveste Leggerla Tranquillamente Devo rinfrescare Non c'è manco più Piante di Allora Buona sola Nella Andiamo Ma non c'è Zero Sto Guarda Sulla nave Prima sono passato E ciao Amico Frizzi Ok Mettiamoci qua Vediamo un po' Se sale 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 Lo so che un problema mio Di linea E pc Vecchiotto Ma vedi da cellulare A questo punto No Si va meglio Allora Cosa ho deciso di fare Facciamo le Come si chiamavano Questa Per fare Non mi ricordo già più Per fare la borraccia d'acqua Perché ho bisogno assolutamente Di due borracce d'acqua Secondo me Tanto la pelle ne ho Quindi dovrei farcela A fare questa roba No Non è che mi sono perso Stavo andando a prendere Le corde Quindi vedi Questo ho fatto Più che altro Stavo alla temperatura Che mi si deve alzare Un altro po' Sto aspettando Che si alzare la temperatura Sì sì Prima infatti Prima la La rastelliera Ho fatto Prima il telaio Che telaio Perso Perso Sei perso in mezzo Vabbè ma Corrile dall'inizio Allora Perché mi state dicendo cose che non capisco Mi sono perso ragazzi Che cosa è il telaio Di cose che non capisco E Tommy ride pure Anche M&P prima ha detto telaio Quindi non capivo Quindi mi serve Fare il cuoio Per fare il cuoio Penso che devo prendere La 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 pelle E non succede niente Ora è la pubblicità Allora ragazzi Allora Non ho capito una cosa Io Questa rastelliera Ah devo fare prima il telaio Ah ecco che intendevi Se no non posso fare il cuoio Ah ok Ora ho capito Va bene Chiaro chiaro Tanto quello comunque lo devo fare Tanto vale Ok Una lo posso fare La buttiamo qua Ok Dopo un po' di tempo Ci sono arrivato anche io Quindi dobbiamo fare Adesso la mettiamo qua Dobbiamo andare a trovare Sempre le piantine del cazzo Sta facendo pure notte Quindi ci dobbiamo anche muore Ho confuso il nome Penelope 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 Non c'è niente qua Pensavo ci fosse qualche pianta Ma hai detto che le piante di yucca Ne sono tre Io una ne ho trovate finora No oggi è notte cazzo Aspettavo un altro po' di tempo Ma ecco la con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Buonanotte Buonanotte A domani 2, 3, 4, 5 e 6 Perfetto Perfetto Si si l'ho fatta L'ho fatta L'ho fatta Ho passi due granchi C'è sempre solo due Se sono moltiplicate Se diventa già tre Allora vediamo un po' Io c'ho 13 Ecco l'ho fatta Non faccio niente 1, 2, 3 E basta Ah no Eccola guarda Perfetto Quindi 1, 2 Cavolo i bastoncini Cavolo Eccoli qua Perfetto Ora andiamo qua Facciamo il telaio E non mettiamo acqua Giusto Ora prendo la perle E dovrei fare qualcosa Con la perle Qua vicino No Come faccio a fare il cuoio Cioè spero di aver fatto bene Non ho consumato quattro cose inutilmente Ah no Vedi Con una di queste E' questo il cuoio Ma perché l'ho fatto col telaio Perché mi sono confuso Giusto La La treglia Per il cuoio Scusa Non è questa La sterliera Per conciatura Io prendo La pelle non conciata Ma non mi fa nessuna pozione Qua vicino Che devo fare? C'è qualche tasto? Ah il telaio per la stoffa Serve Ok Eh si ma non so come Con il pulsante da premere Per farli partire Dove mettere di partire qua? Non credo C C C mi abbasso Scusami se ho cambiato tasto Allora Vediamo input Dove stanno Ehm Massa e tastiera Va bene Che pulsante Menù Ma il menù di posto Ah ok Creazione Ok 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 Perfetto Allora Vediamo un po' Quante ce ne servono Dobbiamo fare la borraccia Quindi Consumabili Borraccia Ehm Ok Ah è solo due Ok Mi serve un bastoncino Che ovviamente Non ho Che ovviamente Non ho Quindi Facciamo due cose in uno Buttiamo a terra Un albero Non troppo grande Questo Mi scoccio Di tagliare Altora Regno Qua Facciamo qua Togliamo pure questo Si mette A favore L'acqua Ok Quindi Io devo fare Prima cosa Prendiamo Questo Qui E mettiamole Qua Perfetto Acqua A zero Ottimo Quindi qua Faccio R E faccio La borraccia Perfetto Il primo Dove per raccogliere Ma un momento Non mi serve Quindi la buttiamo Ne voglio fare Almeno un altro Ma tu dici Me quasi quasi Ne farei quattro Perché io quattro Ne posso tenere almeno Giusto O no O me ne fa fare Una alla volta Sto stronzo R Oh vecchia Ci sei riuscito Sei riuscito A rientrare Mi hai dormito bene Quindi Per regola Come dici Ah ok Fino a Fino a quattro Perfetto Quindi quattro Ne faccio Senza ombra Di dubbio Ehm Perché ne sto Prendendo una Alla volta Di stappello Non l'ho capito Uno Butto a terra R Butto a terra R Butto a terra R Butto a terra Perfetto Prendiamo tutte e quattro Ehm Devo prendere Ora Niente Devo farle solo Una E due Perfetto Siamo pronti Per il giro Del mondo Allora 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 Quindi direi E le borracce Ora ce l'abbiamo Quindi Quando mi porto Presso la roba Sto bene Così Ok E un po' Mi siamo messi Perfetto L'acqua un po' Me la bevo Quindi Dormiamo Mi ricordo Che la brocca Tiene Cinque Sorsi E' proprio La brocca Con l'argilla La posso fare Se non ci porta La resta La resta La resta Se non ci porta La resta Ah che non mi ha fatto dormire Scusa Perché è ancora notte Ah sto scendendo Ok Ok Io devo aspettare qua Che si fa sta cosa Mentre aspettiamo Che si fa sta cosa Buttiamo questa terra Se ne ho riempito Un altro po' Io devo pure bere Madonna Non ce la farò mai riempirle Voglio tornare alla mia isola Voglio tornare Alla mia isola Era così bella E accogliente La mia isola Già cucinata Già cucinata Tutta quanta L'ho messa prima Sì ne ho uccisi Due di serpenti Non l'hai visto Manco che ho ucciso Il serpente Prima Il primo manco Hai Hai cercato Cioè hai visto Ricordiamo che ho dormito Poi lo vado E' stato bravo Bisogna darne atto Eh io sono sempre bravo Oh cazzo E' solo che si muovono In modo strano Qua gli animali Quello il cinghiale Si muove in modo strano Lo devo attaccare Da lontano Ormai non lo fermo A più niente Eh allora ragazzi Stiamo Eh beh no Non sto cerchendo Perché devo aspettare Che si riempia sta cosa Il bello è che Devo bere pure io Che mi consigli Di fare MP Ok 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 Grazie a tutti Oh cazzo Oh questo passaggio Porta niente Eccolo qua Eccolo qua Andiamo bene qua Bastardo che non c'è altro Cambia Cambia Che vuol dire Cambi galleggianti? Perché si rompono i galleggianti? Ah ok Ok Io ne volevo trarre altri però Però sto cazzo di scuola mi davo fastidio Ma lo devo uccidere No Non l'ho preso? Volo qua Ma l'avranno capito ormai che è inutile che vengono contro di me questi Guarda questo come l'avevo infilzato bene Ma questo pure sulla coda l'avevo preso Ma quello non va su Oh cazzo Che cazzo è sto Ma perché? Ah il coltello è vero che l'ho messo dentro qua Come faccio a riprenderlo? Non posso Buttarlo tipo a terra Ok Che donna che siamo Ah vero lo posso portarlo e arrivo Cazzo La cassa dove sta però? No Ma perché squarti che ha detto di Ma gli piace proprio squartarlo Andiamo Squaro tigre Dai Trascinano Sì 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 Io ho collegato Ok Andiamo l'acqua come sta qua Già è finito tutto Io devo pure bere Madonna mia Non è possibile Mi conviene andare sulla L'isola La seconda isola Dove avevo fatto due di queste cose Per riempire l'acqua Che sennò secondo me ci metto una vita Che dici A me più Se no lo devo fare un altro Metti a cuocere lo squalo Se no lo devo ancora finire di squartare Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Anche lo squalo E' andato A fare una brutta fine Ok Ora non ne ho Allora ti volevo chiedere MP Tu hai detto di sostituire Come faccio a sostituire Cioè nel senso che ci vado vicino E me le metto al posto di questo O le devo smontare Oh questa è una lancia Questa qua Questa lancia E' andato a fare un po' E' andato a fare un po' Cotto, medio e cinghiale Sennò tutti e due qua addosso Solo questo c'ho L'altra carne, quella a terra è tutta andata a male Ma già l'avevo buttata Che spreco, eh sì Questo è dove stavo guardando io, vero? Ecco Questa è piena e ce la prendiamo Piena e ce la prendiamo Questa non si apre, queste cose Qua non mi fa a me andare Oh, che è qualcosa, un pesce C'è niente più qua, vero? Oh, eccola qua, un'altra cassa Andiamo sotto Nell'infinito d'oltre Non c'è niente qua Non c'è niente qua Oh, ma vaffanculo Non ho guardato Dove cazzo sono andato a finire? Mannaccia a me, mannaccia Consumare una cosa di avvelenamento Questa propria stupitaggine E' un casino perché devi smontare tutto quello che hai in quella parte Ah, ok A me mi conviene fare una cosa del genere Scusa Non mi conviene tenere il legno No, il timone è vero, no, perché c'è il barili Devo solo smontare questo Ma mi conviene fare questa cosa Madonna, ma mi devo fare la cosa A falla Allora, lo troviamo le fibre qua Vecchia rara si è andata di nuovo Non c'aveva connessione Stasi Ah, me li dà tutto comunque Ok Ok Ok, facciamoci una cosa Buttiamo a terra Buttiamo a terra Andiamo a prendere una noce di cocco Ma perché il galleggiante è molto meglio del coso? Ma che non sale? Ok Devo tenere un po' le muto Ah, non siamo pure a terra sta Ma vaffanculo Allora, non c'è il lago Ah, eccola Ok Andiamo a questo Non la posso prendere E invece i barili Cioè, le gomme e i barili Sono meglio dei galleggianti Lo voglio fare sempre dopo Vediamo se riesco Ovviamente A non morire Cotto Quindi spegniamo il fuoco E rilasciamoli E rilasciamoli Questi qua Solo Ah, mamma mia Non l'ho salvata A sto giro Quindi sarà la volta buona Che morirò Un mini squadro Che non mi fa niente Ok No, qua c'è una nove Altri Altri Galleggianti Ok Ok Ah, era meglio che li trascino Vero questi A sto punto Ci ho pensato dopo Che li ho rotti Vabbè Per la prossima volta Oh, una sola cassa C'era qua Ma che nave Pezzente Che nave Pezzente L'ultimo salvato Non lo so Ma infatti Vado a salvare A me Qua non c'è una cassa Eccola come una cassa Ok Per l'argilla Deve avere in mano Il piccone Sta in mare Ok Vabbè Poi vedremo L'argilla C'è dentro una corda E gli scarti No, scusami Eh, la differenza tra i I galleggianti E i pneumatici Cosa è meglio? No, devo salvare Allora Dormi Salva Perfetto Sto facendo pure notte Vero? Cazzo Ma che è il suo cielo nero Sì, no Pure io penso sia quello Il meglio Cioè Tra i pneumatici E i galleggianti Meglio i galleggianti Qua già ho guardato Mi sono No Ah, eccola qua L'argilla Oh, te la sei chiamata Ma sto vaso Non lo posso prendere Che è di argilla Oh, annaccia Ma non vedo niente Sott'acqua Mannaccia Sto facendo notte Altro argilla qua Non è Cosa non è? Ah, il fatto di pneumatici e galleggianti Ah, meglio i galleggianti Ottimo, adoro E quindi, scusa Ma a questo punto Se ne trovo altri Tolgo anche quelle Quelle ruote Vabbè, ma in realtà Io mi voglio un po' allargare Cioè Troppo streminzita Quella cosa Cioè Voglio qualcosa di possente No Anfora Eh, l'anfora La posso prendere Quell'anfora Ah, non è Ah, l'anfora Che hai detto No Ok Ah, eccola qui Vecchiarella Ogni tanto Ricompare E spam E non mi ha detto Il fatto delle Delle casse Sulla zattera MP Come faccio A mettere Le casse Sulla zattera Come tolgo Sto Sto cancio Come lo tolgo Ah, ma va a scatti Ok Martello Dove sta Cosa Aspetta No Tra l'opzione Ho già guardato Chiuso Non ci sta Le cose costruibili Non c'è Sì, ma io non riempirò mai Le borracce Se devo bere Assolutamente C'è No, vabbè Poi mi largo Successivamente Per ora Va bene Anche così Non è che è Dispensabile Se dici Se dici che sono Molto meglio I galleggianti Rispetto al legno Io metto Questi dieci galleggianti Li metto qua Ma se mi dici Che cambia poco Tra legno E galleggianti Per dirti A questo punto Li uso per allargarmi No, mi allargo No, domani Che è lunedì Perché domani Non giochiamo Scusami Domani sera giochiamo Aggiungi i galleggianti In parte al legno Ok E quindi la lascio così Va bene Però devo Devo ancora girare qua sotto Quindi senza che smonto niente Va bene Sì, sì Dopo Dopo Cina direttamente Domani In pomeriggio Non ci sono Giochiamo Giochiamo Noi giochiamo Scusami Nel menu Che menu Ah Gli scaffali Io posso costruire Gli scaffali E metterli qua sopra Ma posso costruire Tipo pure il fuoco E le cose di acqua Qua sopra Perché se è così Mi svolta tutto Questi dici Giusto Scaffare i contenitori Ok ragazzi È una cosa alla volta Allora Avevo visto una corda Sicuramente Qua dentro Do cazzo Eccola qua Ok Facciamo così Facciamo così Mi serve un'altra corda Sicuramente Quindi No Ma che Che raccogli Butta No Ok No Cazzo Questo mi è caduto addosso Un po' mi uccideva Un'altra corda Devo fare Prova che mi sa Mi sa No Eccola qua La piantina Oh ma si Sono veramente Piene di si piante Comunque Due Giochi a pallone Giochi a pallone Ma va male Ma vaffanculo 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 Fanculo Due volte Mi dimentico sempre Di sto coso Ma com'è Ma com'è Ah ecco Dovevo fare rapidamente Ovviamente Ma questo Deve mettere a mare Ok Ok Mi può salire Sulla zattera Dai Fammi salire Allora facciamo R R R R R R Dove sta Veicoli Ecco qua Allora Uno No Non c'ho la corda Ma come non c'ho la corda L'ho lasciata da terra La corda Zatte Non te ne andare Ecco No Un altro pesce cane Là che mi vuole Questi cazzo Di pesce cane E' andossa Sempre sotto terra Sempre sotto terra Come faccio Come faccio Perché E' Dipendenza Perché ti dà galleggio Ok E di qua invece Non galleggio Ok 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 E' andossa E' andossa E' andossa E' andossa Andiamo Andiamo più qua Andiamo un po' Sempre mi fa andare A largo Per farmi farsi assonzato Eccolo Grandissimo Ora Ora vieni qua Che ti devo di una cosa Vieni qua Brava Zattera Brava Ok Ora Devo farci la roba Sopra Che non ho preso Eccolo Uno Me ne servono due Me ne servono quattro di questi Quindi buttiamo Ne ho visti Mi sa qualcuno In giro Quindi andiamo un attimo In giro Ok Siamo messi bene Non mi abbasso A fare di legno Li voglio fare tutti Di ferro E qua l'abbiamo visto Vero? Questa nave qua E quella la Che L'ultima ci sono andata Giusto? Non mi ricordo male Qua dove c'era l'argilla Si Ok Lei Vediamo se c'è qualche Pesce non lo voglio Dio proprio Basta pesce Ancora qua Un'altra nave Ma pure questo Già ho visto Mi sa No No Una cazzo Questa è un'altra Un'altra nave Pezzente Oh cazzo Abiscia Allora Il fuoco Eh Un'altra nave 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 non c'è niente questo deve essere una 9 carica 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 di di cacca non c'è niente non c'è niente l'altra cazzo di questo è quello stupido non posso almeno uccidere non c'è niente non c'è niente vaffanculo mica l'avevo visto eccolo lì ah no forse sembra quello piccolo giusto ma sempre deve arrivare ok diciamo che abbiamo fatto tutto il giro giusto dell'isola qua pure ho guardato quindi non c'è nient'altro qua ragazzi non c'è più nient'altro nient'altro cazzo di granchio ancora qui ancora qua ancora qui ancora qua ancora qui ancora qui ancora qui sì sì di così noi qua siamo ormai alla ricerca di come conquistare il mondo che non ci basta più l'isola allora che cosa devo fare voglio allargarmi qui a qui e mi servono altri tre pezzi di metallo qui mi sono fatto il giro dell'isola però a nuoto ma non ho guardato sul contorno mi faccio un attimo il giro il perimetro qua vedo se ci stanno pezzi di metallo se non ci stanno pezzi di metallo non ce ne frega un ca eccolo qua uno e quello non è un altro no legna cazzo non lo voglio di legna non mi piace no l'argilla non l'ho presa perchè in pratica ho bisogno del piccone dovrei farmi il piccone per l'argilla mi conviene fare il piccone per fare l'argilla mp o mi servirà più avanti l'argilla quindi è inutile che la prendo qua o meglio ne troverò più avanti ok sono curioso sì vieni con ti preoccupi siamo qui per questo per rendere la vita meno curiosa ai curiosi ecco qua ecco qua non ce l'ho il pavimento poi me lo farò non me ne frega giusto però diceva che io posso fare lo scaffale mo che ci penso posso fare lo scaffale e se posso fare lo scaffale mi cambia tutto o meglio quasi tutto e non sei donna si nico questa è la questa è la zattera e qua ci stiamo allargando nico si è detto stiamo conquistando il mondo il mondo il mondo eccolo qua ci saranno tre pezzi ma dopo devo farlo il giro uno ce l'ho e dai piccone sarebbe meglio farlo visto la gran quantità di materia prima ok però voglio farmi un attimo lo scaffale perché se no sta roba dove me la porto appresso scusami ti trovi per fare il piccone cosa mi serve vabbè ce l'ho questo ok ah vabbè tranquillo due pietre due pietre un tronco e due cosi ok due di cuoio la pietra ce la prendiamo tanta roba eh si nico mica siamo qui a pettinare le bambole eh mica siamo qui a pettinare le bambole ecco le quale assi c'erano altre qua di assi ok perfetto nico qua uccidiamo squali cinghiali serpenti che ci vogliono uccidere uccidiamo tutti uccidiamo i tronchi già tagliati si vabbè ma stanno pure qua quanti me ne servono scusami eccolo qua lo scaffale vero devo fare ma scusa ecco qua che cazzo lo metto su scaffale qua giù quindi io prendo una cassa tre casse vai che figata che cazzo di figata è questa si anche gli squali ormai ne abbiamo uccisi un bel po' ti faccio vedere vedi questa è la prova che abbiamo ucciso cotto grande pesce carne si capisce no? ok mangiamo ok mangiamo beviamo è finita pure l'acqua ma che grande figata sta cosa ma tu sei sicuro che tipo il fuoco a questo non me lo posso mettere sullo coso? cioè se mi posso mettere questo perché non mi potrei mettere quello? mi posso mettere pure il letto sta qua non è affumicato che vuol dire non è affumicato? ah e perché non è affumicato? forse anche quelli prima non erano affumicati allora a questo punto ok ok ah ma lo scaffal lo posso fare anche con l'altra cosa? quello di ferro ah ok quindi si cuoce prima e poi si affumica ok ok si si no è finito il fuoco ho messo a poter cioè come faccio a fare le asse di legno però? gli scarti di asse? le posso creare? perché cazzo io mo mi riempio la zattera di sicose? me ne frega nulla già ho deciso ma la zattera può diventare più pesante e quindi non camminare e come diceva 1111 devo mettere tipo due vele se mettessi due vele poi va meglio va peggio si devo motorizzarla il problema del non è motorizzarla perché posso riesco a fare anche il motore il problema è la benzina che non posso ancora farla vabbè sbilanciarsi se ne metti troppi non ci vedi più vabbè ma io le metto laterale ma io ho già deciso che qua qua si allarga sicuro una qua una qua quindi una la metto qua sicuro e una la metto qua sicuro e sono quattro quattro per tre sono dodici casse a me basta che tanto quando sto seduto qua vedo non me ne frega ok 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 ragazzi roba c'ho però eh vabbè ragazzi io direi di salvare e vi do appuntamento a domani ragazzi a domani circa le nove sì circa le nove perché di pomeriggio non ci sono non riesco domani mattina alle 11 c'ho la diretta su empire in puzzle domani mattina alle 11 quindi se giocate sì domani mattina sì domani mattina Tommy diretta alle 11 e ci lasciamo a mezzanotte e un quarto chiuso fino a mezzanotte ok ma inizio a non connettere più praticamente allora domani mattina alle 11 è diretta su empire in puzzle e poi di sera alle 9 quindi dopo scena continuiamo stranded deep ok ragazzi ragazzi vi ricordo seguite il nostro canale su su telegram in modo tale che sapete tutte le dirette quando le le faccio senza che magari vi perdete qualcosa ok vi ripasso i canali nel caso in cui nel caso in cui volete seguirmi sono scritti tutti quanti qua ci sentiamo domani grazie per avermi seguito grazie per avermi fatto compagnia grazie a tutti ragazzi buonanotte a domani grazie a tutti